la storia di benjamin coniglio questa storia parla di benjamin che si chiama come il nostro fratellino più piccolo che va a cercare peter per andare a recuperare la giacca e le scarpe di peter che sono nel giardino del signor mcgregor questa storia ci piace perché finisce bene anche se il papà di benjamin gli dà una lezioncina a suo figliolo per essere un coniglietto monolino